Eccoci, benvenuti ad Aquileia, città importantissima, secoli e secoli fa per l'impero romano, situata in un punto strategico, da dove discendevano le merci dal nord dell'Austria, e da est arrivava la pannonia, lo diano Ungaria, è diventato un centro importante appunto di smistamento di ricchezze, di materiali, e tuttora sono ancora presenti dei residui dell'insediamento romano, che dopo andremo a vederlo. Intanto, prima di tutto, un planzo. Molto bene, e dopo un pasto pantagruelico, facciamo due passi e non muovere dare la... Abbazia? Una basilica. Basilica di Aquileia. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.com Fa caldo, aumentato con un po' il sole, ma ci sono le lungole e piove, non si capisce niente. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.